Per tutti è la truffa del suo figlio ha avuto un incidente. Il copione si è ripetuto a Castiglion Fiorentino, ma solo grazie ad una rete efficiente tra familiari e forze dell'ordine, il racconto è quello di un tentato raggiro. Lo schema è assodato e reiterato. Protagonista un'anziana signora ottantenne residente nel paese del Cassero, raggiunta da una telefonata di prima mattina. Dall'altra parte della cornetta un uomo con accento partenopeo, classificatosi come Marsciallo dei Carabinieri, che racconta che suo figlio Guido era stato protagonista di un brutto incidente stradale. Con la sua auto aveva travolto una bambina che attualmente era ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale. Proprio a seguito dell'incidente il figlio era stato trattenuto in caserma e il suo cellulare sequestrato. La signora poteva alleviare la pena prevista per il figlio solo consegnando ad un avvocato che avrebbe fatto visita alla signora nella sua abitazione da lì a poco una somma di 5.000 euro o preziosi che aveva a disposizione in casa. L'anziana, in preda al panico, decide così di telefonare all'altro figlio in quel momento al lavoro. È proprio lui a capire immediatamente il raggiro e ad avvisare il fratello Guido, che fortunatamente si trovava non lontano dall'abitazione della madre. Prima di raggiungerla avvisa però il maresciallo della stazione di Castiglionfiorentino che si precipita insieme a lui a casa della madre. Lo stesso comandante attiva rinforzi per pattugliare la zona intorno all'abitazione nella speranza di cogliere i malviventi sul fatto. Ma i truffatori desistono e non bussano alla porta. Scatta però l'immediata denuncia contro i gnoti per tentativo di furto aggravato per il fatto che è stato perpetrato ai danni di un'anziana e l'avvio delle indagini da parte dei militari. Stavolta la truffa non è andata a segno per il pronto intervento dei familiari. L'interessamento immediato dei carabinieri della stazione di Castiglionfiorentino, comandante a Modio in testa che vorrei ringraziare per la professionalità e la sensibilità dimostrata anche in questa occasione. Mi viene però da pensare chissà in quanti altri casi il crimine viene portato a termine e gli anziani per paura, per timore, per vergogna non arrivano nemmeno a denunciare l'accaduto. Si tratta di un crimine odioso che lascia nell'anziano una sensazione di insicurezza, di violazione. Quest'estate quindi pensiamo sia alle vacanze ma cerchiamo di avere un occhio di riguardo nei confronti delle persone sole, indifese, gli anziani che abbiamo in famiglia ma anche quelli che sono i nostri vicini di casa perché spesso non hanno nemmeno gli strumenti idonei per contrastare queste organizzazioni di malfattori senza scrupoli.